Ero lì in Toscana perché ero nel primo genio che a Torino. Da Torino mi hanno mandato in Toscana, a Rezzo. Siamo arrivati là con un grappolo di luci che venivano giù, e così mi chiamano. Venivano giù e illuminavano tutta la città perché venivano a bombardare la stazione perché lì caricavano il tabacco. Siamo arrivati lì e sono rimasto con i tedeschi, naturalmente, sempre con i tedeschi. Siamo rimasti lì un annetto. Poi il fronte veniva avanti perché da 25 km lanciavano quelle bombe che arrivavano lì, proprio vicino alla casa del contadino. Quando ho saputo che il nostro esercito lì andava a Firenze, allora mi sono detto, adesso qui non ci vado, non li seguo i tedeschi, non si sa dove mi portano. Allora sono andato su un ritano che c'era dietro la casa, abitavamo su delle casette, sono passato lungo il ritano, ho portato il mio zaino in mezzo un campo di grano enorme e mi sono nascosto lì. Alle due precise è partita la compagnia e gli amici mi gridavano, lo sappiamo che sei qui, De Rosa, lo sappiamo che sei qui. E io ho zitto nel grano e sono andati via. Io sono rimasto lì e dicevo, adesso cosa faccio? Allora la cosa che ho fatto è farmi conoscere dei contadini, ne ho conosciuto uno che mi hanno voluto bene, mi hanno trattato come un figlio proprio, dormivo sul letto con i suoi figli, facevo il contadino, ho imparato a fare anche il contadino e sono rimasto fino al fronte che era a Bologna, il fronte tedesco era a Bologna. Allora mi sono incamminato, ho detto adesso vado a casa, ho messo un zaino in spalla, ho camminato a piedi da piedi da piedi da piedi, quando sono arrivato lì a Montevarchi suonavano le campane e da lì è passato un camion pieno di carbone e ci ha caricato sopra me e uno che mi veniva dalla sesta armata dalla parte di là, mi veniva dalla sesta armata, eravamo io e lui. Ma come suonavano le campane a Firenze, eravamo vicino a Firenze. E' finita la guerra, vabbè se è finita la guerra allora dico cammino più tranquillo. Allora siamo scesi e abbiamo invocato la strada che va a Firenze a piedi, abbiamo dormito su una catapecchia piena di topi che tutta la notte avevano a fare un'ora di camminare, l'indomani mattina con questo qui della sesta armata che faceva la stessa strada, andavamo a Bologna, mi ha detto arriva una macchina, facciamoci vedere che siamo stanchi. Allora camminavamo da stanchi e si è fermato, era un inglese. Dove andare? Bologna, salire. Quando siamo saliti sopra il camion ce n'era un setto otto, devono stare tutti giù perché non poteva portare nessuno. Allora mi ha portato fino a Bologna, da Bologna a Modena, poi siamo andati a Alessandria. Alessandria lì ho visto le prime fotografie di Mussolini quando l'hanno impiccato, aveva uno lì che lo stavo facendo vedere, e allora ho aspettato il treno che mi ha portato fino al santuario. Al santuario sono venuto a casa, finita la storia del militare. Quando ero lì a Torino c'erano i tedeschi che avevano la postazione e non facevano altro che di notte. A un bel momento gli si è guastato il motore, è uno di Belluno, dice fate guardia? Sì, ci ho detto e poi ho detto quando ritorni non mi ci trovi più, no perché ci ero portato in Germania. Ci siamo andati allora via, via 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 nascosti e abbiamo trovato, siamo andati a sbattere nei partigiani. Sono rimasto là su un mesetto quando ho visto che le cose si mettevano male perché si sono fregati, erano partigiani per modo di dire, avevano tutte le armi lì. I tedeschi seguivano la linea elettrica e trovavano queste case che c'erano lì con tutte le armi. Portatele più in su le armi e nascondetele. Allora siamo dovuti scappare, sempre più in su nei ghiacciai, con quei muli appresso. Poi siamo fermati lì su una baita lunga e che c'era della paglia e abbiamo dormito lì. Poi io ci ho detto guardate, io e un altro che abitava lì a Oro Bassano, era a Oro Bassano vicino a Torino, ero lì. Ho detto guardate, io me ne vado, mi dispiace per voi altri ma io me ne vado perché potevate star meglio ma vedo che qui non vi siete organizzati. E allora sono venuto via, sono sceso giù con questo qui, con un altro che era lì, a Giaveno, a Giaveno ho preso il trenino e sono andato a quella casa lì dove i tedeschi avevano postazione e mi hanno detto se vi avessero trovato qui era finita per voi altri perché si sono arrabbiati, avevano una gomma a terra e non sapevano come fare e volevano un aiuto e noi siamo scappati. Chissà che fine avranno fatto quello lì.